Allora, una giornata contro la mafia, quanto può fare la musica per combattere appunto le mafie? Beh, io penso che la musica possa sempre fare tanto, quantomeno in termini di speranza, di positività, di mantenere sempre calda l'attenzione anche di giovanissimi su certe tematiche. Non nel senso della cronaca, ma invece nel senso della risposta che può dare ognuno di noi. Quindi in questo caso appunto con la musica artisticamente, quindi trasformare tutta la cattiveria, la frustrazione, l'arroganza che si respira invece in qualcosa che porti positività, solarità, emozione. In questo caso su un palco per chi lo calpesterà per la prima volta, quindi un grande bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che si esibiranno oggi. Il piotta è contro le mafie? Il piotta è contro le mafie come sperano tutte le persone dotate di intelletto e buonsenso.